Proprio ieri abbiamo visto il film romantiche di Pilar Fogliati che era uscito a febbraio 2023 e adesso attualmente disponibile sulla piattaforma Prime. Abbiamo pensato queste cose, Pilar Fogliati ha 31 anni, grossomodo all'età che aveva Carlo Verdone quando debuttò nel 1980 con un sacco bello. Anche lei come Verdone ha prima passato il rodaggio televisivo nel 2015, Fogliati nel 2015 a 23 anni ha interpretato Betta nella miniserie televisiva del Bosco di Aeros Puglielli ma poi la si vede in un passo da cielo dove acquista più popolarità anche grazie a un video, sempre di quegli anni, 2019-2020, in cui limita tutte le parlate dei quartieri romani, da Roma Nord a Roma Sud. Ora perché scomodiamo Verdone per parlare del debutto cinematografico di questa attrice? Perché attrice de facto è, nel senso non è solo una comica, Pilar Fogliati è un'attrice con tanto di diploma all'Accademia dell'Arte Drammatica di Roma, ma non tanto per ricordare che attori non ci si improvvisa ma questa è un'attrice, una fiordettrice che ha studiato, bisogna studiare per diventare attori. Perché anche lei, scomodiamo Verdone perché anche Pilar Fogliati come il Divo Carlo sceglie di esordire, opportunamente consigliata, di esordire con dei personaggi facendoci vivere le vicende di queste quattro ragazze, tre romane e una siciliana. Appunto la sicula Eugenia, col suo sogno di fare la sceneggiatrice, ricordiamo un'altra celebre sicula, la Monica Vitti, alla quale appunto Fogliati dice di ispirarsi. La pariola Tazia, alle prese con le fragilità sue e dell'altro senso, la nobile donna Uvetta, già solo il nome, è da premio Oscar, che vuole uscire dal mondo delle farfalline candite e provare la vita vera e Michela, la tosta Michela da Guidonia, messa però a dura prova a un passo dal matrimonio. Quattro donne diversissime, unite da un'animo romantica anche quando sembra non esserci e unite dalla stessa terapeuta. Se Verdone aveva come nome tutelare Sergio Leone, anche Pilar Fogliati non si presenta allo sbaraglio, ma con un mentore di tutto rispetto che si ritaglia anche il ruolo di sceneggiatore. Già Giovanni Veronesi, che per certe cose è veramente un re, è meglio dire Mida. Pilar Fogliati è bravissima, come lo era Verdone, riesce a dare vita a queste giovani donne così diverse che, seppure nate dalla capacità di osservazione finissima, raffinatissima di Fogliati, le donne romane sono così, che scegli di mostrare, sono esattamente così, andate nei quartieri, le incontrerete, non sono assolutamente una costrazione in vitro, non sono personaggi veramente che non sai dove andare a trovare o creati, astratti completamente, no, quelle donne esistono, le donne che mostra, che mette in scena Pilar Fogliati esiste, ragazzi e giovani donne esistono assolutamente, le puoi incontrare nei quartieri, sono così, non c'è niente di inventato. Poi certo sono questi personaggi che sono stati ben strutturati in serie di sceneggiatura, grazie anche alla consumata arte di Veronesi che sa cosa dare al pubblico. Romantiche di Pilar Fogliati, il debutto cinematografico di Pilar Fogliati è bravissima, è bellissima, è una commedia dei sentimenti che sa toccare delle vette poetiche, assolutamente non comuni per il nostro cinema, è bellissimo per esempio l'omaggio a Francesco Nuti, no, quando Giovanni Anzaldo cita la canzone il primo ottobre, ma c'è anche poesia anche nei momenti comicissimi dove Uvetta, ripetiamo, che è la nobile donna, la nobile, scopre cose comunissime esaltandole come se fossero le prime cose mai avvenute nel mondo. C'è tanta poesia in questo film, c'è tanto divertimento, Pilar Fogliati padroneggia, poi certe sfumature recitative in modo veramente strepitoso, fa ricordare davvero Monica Pitti, di cui oltre a ricordare i lineamenti, alcune volte ha dei lineamenti che ricordano, mentre la Vitti ha anche quell'aria a volte scansonata di chi sa giocare con gli eventi, anche quando gli eventi la stanno sovraffacendo. Ora è un film riuscito, è riuscito per la sceneggiatura, riescono per la sceneggiatura, riescono per la regia, i movimenti di macchina sono puliti, è ben confezionato, non ci sono ovviamente, è un primo film, è un debutto, non ci sono ovviamente le carellate e le stilicam di Kubrick, ma non servono neppure, la regia è assolutamente funzionale alla narrazione di questi sentimenti, di queste donne, di queste giovani donne, ben portate in scena, ottimamente direi, portate in scena da Pilar Fogliati. Ovviamente è un film riuscito, ha bisogno dei giusti comprimati, ci sono L'aiutano Rodolfo Laganà, Ubaldo Pantani, bravissima nel ruolo della terapeuta Barbara Bubolova, sono tutti bravi, lei è bravissima, ha sempre un po' questo, la Bubolova ha questo atteggiamento sempre un po' divertito, sembra quasi una madre che gode dello spettacolo della figlia, come Pilar Fogliati, una figlia putativa e lei gode di quello che le sta accadendo sotto i suoi occhi, bellissima comunque nel ruolo della terapeuta, che fa riflettere queste quattro giovanissime donne. Insomma i comprimari sono tutti bravi, misurati, tutti attesi a far bene, a lasciare a Fogliati il ruolo di autentica mattatrice, perché signori stiamo parlando di una mattatrice, di un'attrice veramente, assolutamente non comune. Noi siamo strabiliati da come riesca a padroneggiare la scena senza imporsi, senza dover sgomitare, è assolutamente tutta compresa della sua bravura non ostentata ma portata, porta al pubblico. E fioccano ovviamente anche i premi. Dove l'entretiene la storia d'argento, migliore attrice in una film commedia per Pilar Fognati, assolutamente meritatissimo. E il globo d'oro, miglior commedia e migliore attrice per Pilar Fognati. Insomma mi sembra che la recensione sia anche troppo lunga, non vi diciamo altro, recuperate il film, era uscito al cinema, ma adesso è sulle piattaforme, non perdetelo perché ci sentiamo di dire che se proprio non è nata una stella, non usiamo questo termine, la stella c'è già e si chiama Pilar Fogliati. Ora naturalmente Pilar si sta godendo il giusto successo, buffo perché non ci era assolutamente piaciuta in alcune fiction, anzi a volte avevamo messo anche in discussione la sua capacità recitativa perché a un passo dal cielo, come aveva recitato questo personaggio, o non ci era piaciuto il personaggio o comunque non ci era piaciuto, aveva trasposto e poi ti esce con un film del genere dove è veramente strepitosa, bravissima, fortissima, simpatica. La sceneggiatura utilizza anche dei temi di molto, non mi tu, ma di un femminismo quello sano ovviamente, quello sano, quello costruttivo, quello che vuole veramente lottare per i diritti senza danneggiare gli altri e questo in questo film passa assolutamente questa delicatezza, questa poesia, questa gentilezza, questa forza del muliebre che non è in posizione, ma è calamita, energia, attrazione assolutamente. E non vi pentirete, seguite il nostro consiglio, guardate, romantiche di Pilar Fogliati, vi delizierà. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un like e noi ci troviamo alla prossima recensione. Grazie a voi tutti.